Inaugurazione del Palazzo di Lorenzo a Ceraso, l'Università degli Studi di Salerno è presente. Sì, la voglia è quella di dare un contributo rispetto a questo centro di alta formazione che si intende creare qui a Ceraso, che è il comune capofila di questo accordo del campus mediterraneo di 19 comuni cilentani della Valle di Diano, e la volontà di collaborare insieme al Parco Nazionale del Cilento. Il desiderio è quello di immaginare dei progetti di formazione, di ricerca comuni. La nostra università si è cresciuta tanto in questi anni, l'ha dovuta alla felice collocazione nella Valle dell'Irno, quindi noi siamo gelosi da un certo punto di vista della nostra presenza lì, perché è lì che abbiamo avuto la possibilità di poter crescere e costruire. Ma sentiamo molto la responsabilità nei confronti del territorio, nell'interesse della crescita di un territorio intero e soprattutto dei nostri giovani. In questo senso, se ci sono le condizioni, in questo caso mi sembra che la presenza del parco, la presenza del biodistretto sulla diversità e la presenza dell'università è ben in qualche modo sostenuta dalla regione Campania, ci sono questi gli ingredienti per immaginare dei progetti seri che possono essere svolti anche in contesti importanti, come in questo caso questo centro che è ospitato in un palazzo bellissimo di alto valore storico. La preparazione di una struttura realizzata con i fondi europei, che abbiamo destinato ad alta formazione, a promozione e valorizzazione del territorio. La presenza del Rettore, dell'assessore regionale qui, non solo per gratificarci dell'iniziativa e quindi dell'inaugurazione di questa struttura, ma soprattutto per la sottoscrizione di un'intesa affinché nel Cirento si realizzi e si sviluppi un polo di conoscenza, di formazione di alta qualità che coinvolga tutte le amministrazioni esposti alla formazione anche nel nostro territorio.